Ciao a tutte ragazze, bentornate! Oggi nell'arto tutorial ispirato alla squadra di calcio Fiorentina. Seguite il video per capire come si fa. La prima cosa da fare sarà quella di stendere uno smalto bianco gesso su tutta l'unghia. Dopodiché con uno smalto viola andiamo ad allineare una francia a due punte trasversale. Con uno smalto rosso da nail art andiamo a disegnare il simbolo della Fiorentina, il giglio. Bordiamo la French con uno smalto dorato. E alla fine fissiamo il tutto con uno smalto trasparente, un top coat. La nail art è completa, fatemi sapere in un commento cosa ne pensate. Io vi rimando al prossimo video ragazzi, un bacione! La storia si sono andata, fatemi sapere in un commento cosa ne pensate.